Quello che voglio dire è questo, emerge in generale da questi anni di profonda crisi e di difficoltà il quadro di una regione che tiene anche sul piano del commercio. La quantità dei servizi è diminuita, degli esercizi commerciali è diminuita, ma da qualche tempo a questa parte ci siamo assestati. Quindi vuol dire che c'è un commercio che si impegna, che fa sacrifici, noi non vediamo luci in fondo al tunnel, però vogliamo stare accanto a questi imprenditori e lo facciamo attraverso una regolazione urbanistica che vogliamo difendere, perché come è stato detto la Toscana, Firenze e Pienza non sono come la periferia di Brescia, non sono la stessa cosa. Abbiamo bisogno di tutelare il nostro paesaggio, di tutelare le nostre città storiche, le nostre città d'arte, dentro le quali la presenza del commercio è fondamentale e quindi abbiamo predisposto leggi che vanno in questa direzione e che vogliamo ovviamente difendere e su cui vogliamo argomentare le nostre posizioni. Stiamo ragionando sul tema del credito in rapporto a grandi confidi di confesercenti, ma anche in rapporto agli altri confidi, il nostro, quello degli artigiani, quello degli industriali, per trovare il massimo delle sinergie, per venire incontro al commercio su un punto fondamentale che è il credito. I commercianti hanno bisogno di liquidità, hanno bisogno di credito e quindi questo aspetto è fondamentale per continuare a loro l'attività, per loro l'attività e per dare una mano a questo settore. Poi abbiamo parlato anche di altre cose, abbiamo parlato del ruolo che può avere il turismo, la via francigena, il fatto che adesso discutiamo delle province e quindi quando discuteremo del turismo dobbiamo capire quali sono le competenze che si ridistribuiscono tra regioni e comuni, fondamentali sul settore dell'accoglienza, su quello della promozione sul cui dobbiamo fare di più. Abbiamo parlato anche della via francigena perché questo è un altro asse decisivo per lo sviluppo del turismo in questa regione e anche per lo sviluppo dei commerci. E poi le infrastrutture, è inutile aggiungere a questo quadro quello che già tutti conoscono, gli aeroporti, la questione dell'adeguamento anche delle strade della Toscana sulla costa e anche qui all'interno. Questo è un po' il quadro che abbiamo fatto.